Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support, io sono Doc e con il video di oggi daremo ufficialmente inizio all'approfondimento tecnico dedicato alle singole componenti che di fatto costituiscono il nostro computer. E da quale potremo meglio cominciare se non da quella che le custodisce tutte al suo interno? Esatto, come forse avrete già capito, quest'oggi parliamo del case. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social, link in descrizione, e ad iscrivervi al canale non dimenticando di attivare la campanellina delle notifiche, elemento fondamentale così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Come anticipatevi durante il video pilota di questa rubrica, che tra l'altro se non avete visto vi lascio linkato qui sotto in descrizione, il case, detto anche cabinet o chassis, ha come principale funzione quella di contenere al suo interno tutte le componenti hardware, quindi fisiche, che compongono all'atto pratico il nostro computer. E inoltre, esso è parte attiva del loro processo di raffreddamento, in quanto unico responsabile del cosiddetto airflow. Mi spiego meglio, il case in sé per sé non è altro che un mero agglomerato di pannelli, che quindi da solo non può raffreddare assolutamente niente. Difatti la questione è totalmente gestita dalle ventole e dai dissipatori che sono situati all'interno dello chassis medesimo. Tuttavia, come ho detto prima, il case è responsabile dell'airflow. Ma che cos'è questo airflow? Tradotto letteralmente dall'inglese significa flusso d'aria. Difatti poi sta ad intendere la direzione, il flusso che l'aria incanalata dalle ventole all'interno del case segue per raffreddare tutte le componenti ed essere infine portata di nuovo all'esterno da altre tante ventole. E prima che possiate domandarvi qual è l'importanza in tutto questo del case, provate a pensare un attimo ad un frigorifero, un classico e normale frigorifero. Esso, come struttura esterna, ricorda molto quella di un computer anti, potremmo veramente accomunarli, se non che in una ci sono dentro salsicce, formaggi e via discorrendo, e in una delle componenti elettroniche, ma per il resto sì, si assomigliano molto, perché sono ambedue due strutture esterne formate da pannelli che fungono esclusivamente da contenitore. Solo che, cosa succede? Nel caso del frigorifero c'è una serpentina di raffreddamento che genera una determinata temperatura all'interno del frigorifero medesimo e questo la contiene, la conserva per ottimizzarne l'efficacia. Analogamente è esattamente questo che succede in un computer. Vale a dire che l'aria che appunto le ventole immettono all'interno del cabinet viene ottimizzata nel suo movimento, nel suo flusso appunto, di modo che possa raggiungere efficacemente ogni componente ed infine essere nuovamente trasportata verso l'esterno. La qualcosa detta in questo modo potrebbe anche non sembrare tanto importante, tuttavia invece lo è e anche moltissimo, perché è un airflow fatto con tutti i dovuti crismi, come si suol dire, permette di abbassare le temperature e di controllare le temperature interne al case anche di una decina di gradi. Quindi se stiamo parlando di una workstation, quindi di un computer che si è sottoposto solitamente a grossi carichi di lavoro, quindi magari, non so, per video editing, per della post-produzione o anche soltanto per del gaming intenso, avere a disposizione un buon o un eccellente airflow permette appunto di controllare molto meglio le temperature. Ciò nonostante, il case è paradossalmente l'unico elemento del quale potremmo davvero fare a meno in un computer, in quanto la sua presenza o la sua assenza non va minimamente a inficiare la funzionalità del computer stesso. Mi spiego meglio. Se voi prendeste tutte le componenti presenti all'interno del vostro computer e le appoggiaste su di una scrivania normalissima, queste funzionerebbero benissimo anche senza l'utilizzo di un case. Tuttavia, così facendo, si andrebbe incontro a due rischi, non tanto problemi, a due rischi, ossia il primo legato alla questione temperature, perché mancando il case manca anche il layer flow, quindi in generale le temperature sono più alte, e in secondo luogo relativamente alla pulizia, perché ovviamente mancando i pannelli laterali la polvere gli si va a depositare molto più velocemente sopra, e questo è il nemico numero uno dell'elettronica, un po' come la kriptonite per Superman. E queste cose non ve le dico giusto per sentito dire, ma per esperienza personale, perché come potete vedere il mio case deficita di ben quattro lati, di conseguenza so benissimo che cosa vuol dire avere a che fare con temperature un po' più alte o comunque da dover gestire, e soprattutto con questione della pulizia, perché laddove un case chiuso può essere pulito con una media di un mese e mezzo, due, una volta ogni mese e mezzo, due, tranquillamente, anche se posizionato magari sotto una scrivania dove è più normale che tire all'interno polvere, il mio veramente dopo un mese a dir tanto lo devo assolutamente pulire, perché ovviamente non lo faccio adesso, perché sennò sarebbe una problematica, a pc acceso, se io smontassi la ventola blu che vedete lì, che è la ventola del dissipatore del processore, sotto vedreste tranquillamente un alone di polvere e l'ho pulito questo weekend, quindi veramente due giorni fa. Di conseguenza, fatta eccezione per i cabinet futuristici o dal design strampalato, nella normalità i case chiusi, quindi i cabinet classici che possiamo trovare in commercio, sono strutturati, sono fatti in maniera tale da favorire il migliore airflow possibile nella normalità per riuscire a massimizzare l'opera delle ventole. Poi fa da sé che i case più economici magari lesinano su qualche dettaglio, su qualche componente, su qualche piccolezza, che ovviamente ne va a abbassare il costo, però ne abbassa anche la qualità. A seconda poi del loro orientamento verticale o orizzontale, i case possono essere suddivisi rispettivamente in tower e desktop. E iniziando a parlare da questi ultimi, semplicemente perché sono quelli di cui c'è meno da dire, i case appunto di tipo desktop fanno parte di una categoria che potremmo definire quasi mai di nicchia, in quanto ne esistono davvero pochi modelli in circolazione e non sono particolarmente gettonati, ecco, dalla clientela. E le persone che li vanno poi fondamentalmente ad acquistare lo fanno principalmente per una problematica di spazio, dove quindi non possono optare per una soluzione di tipo classica tower, oppure un po' più raramente per preferenze estetiche. Nel mio caso appunto è proprio quest'ultima la motivazione che mi ha spinto ad acquistare un Silverstone Grandia GD09, un case di tipo appunto desktop, da installare in soggiorno sotto la televisione, per poter creare una specie di piattaforma, un computer da gioco ovviamente non competitivo, ma con cui ad esempio posso fare delle partite in cooperativa con la mia morosa o anche magari giocare qualcosa online, ribadisco, non competitivo. Io personalmente lo trovo molto carino, se non l'avete mai visto vi invito a farlo o vi lascio qui sopra in sovraimpressione un'immagine di questo case che vi ho appena citato. È assolutamente minimale, non ci sono LED particolari, non ci sono predisposizioni per veramente quasi nulla. È una scatola fondamentalmente, però essendo che l'idea di mettere un albero di Natale perennemente in salotto non è che mi entusiasmava, in realtà non entusiasmava neanche la mia morosa, per cui dal momento che vale la questione del fatto che se io voglio andare in montagna e lei vuole andare al mare, alla fine andiamo in spiaggia ma io posso portare agli sci, ho optato per una soluzione un po' più anonima. Diversamente i case di tipo Tower sono senza alcun ombra di dubbio i più venduti e i più circolanti nel mercato, di fatti poi ne esistono davvero un quantitativo pazzesco di versioni diverse, alcune delle quali veramente veramente bellissime che permettono di creare delle configurazioni a parer mio da togliere il fiato, veramente entusiasmanti. Per farvi un esempio, ma perché l'abbiamo citato poco fa, il mio case è un Thermaltake Core P3, un case molto particolare perché appunto è, come vi ho detto prima, aperto e può essere davvero personalizzato nella maniera più disparata, può essere direttamente attaccato a muro perché i piedini si smontano tramite una sola vite, il vetro anteriore, il pannello anteriore può essere debitamente smontato, può essere aggiunto ad altri, corre esattamente uguali, quindi può essere veramente personalizzato in maniera davvero incredibile, basta avere le conoscenze o anche solo lo sguzzolo, chiamiamo qui da noi, di inventarsi questo genere di configurazione. Ma altrettanto, ma perché li conosco e mi sono venuti in mente in questo momento i case della Lee & Lee piuttosto che la NZXT, altre due marche molto conosciute che online si vengono utilizzate per creare delle configurazioni e anche questo è veramente mozzafiato. Vi lascio magari qualche immagine in sovraimpressione o qualche link qui sotto in descrizione perché ne vale veramente molto la pena a parer mio vederle. Ma tornando a noi, i case di tipo Tower possono essere suddivisi a loro volta in quattro sottocategorie che più che altro si differenziano l'una dall'altra per una questione di dimensione e di conseguente capacità di stoccaggio, di alloggiamento dei pezzi. La prima è quella dei case denominati Full Tower, la dimensione in assoluto più grande e di tutte quante che permette di alloggiare appunto al suo eterno una non infinita ma un alto numero di hard disk masterizzatori e anche fino a tre o quattro schede video oltre che ovviamente anche le schede più grandi che ci sono attualmente in commercio. Sono soluzioni molto impegnative per quanto riguarda lo spazio e di fatti è proprio questo il rovescio della medaglia che le rende un prodotto un po' più di nicchia quasi come i case desktop di cui parlavamo prima. Perché appunto una persona che li va ad acquistare deve tenere conto delle sue dimensioni molto generose e che quindi deve avere lo spazio. Tipo nel mio caso questa scrivania che è abbastanza contenuta non ce la farebbe mai a contenere un case di quelle dimensioni. Seguono poi i case di tipo Mid Tower o Middle Tower, i più venduti in assoluto della categoria e direi in generale di quello che è il panorama mondiale dei case per computer, in quanto pur avendo dimensioni più piccole, più contenute dei Full Tower riescono comunque ad alloggiare al proprio interno anche fino a due schede video, svariati hard disk e svariati mazzerizzatori. Di conseguenza è un'ottima soluzione, un'ottima via di mezzo tra l'enorme grandezza dei Full Tower e la buona capacità di contenimento di questi utili. Al terzo posto abbiamo poi i case di tipo Mini Tower, quindi dotati di dimensioni molto più compatte rispetto a un Middle Tower che straenormemente a confronto con un Full Tower che però rappresentano un'ottima soluzione per tutte le persone che hanno problematiche di spazio, come ad esempio con una scrivania piccolina come la mia, in quanto pur che avendo delle dimensioni sicuramente compatte, questi case riescono ad alloggiare quello che è lo stretto necessario per la maggior parte dei computer, ossia una scheda video, un paio di hard disk e un masterizzatore laddove vi possa servire. L'unica problematica, l'unica restrizione a cui fare attenzione di questi case è che appunto avendo queste dimensioni un po' più contenute ulteriormente, bisogna fare attenzione alle dimensioni delle componenti effettive che si vanno a montare all'interno, perché ad esempio laddove voi vogliate acquistare un RTX 3090 che è una scheda video davvero di dimensioni molto generose, potrebbe non essere effettivamente compatibile. E in ultimo luogo chiudono la fila gli SFF o Small Form Factor, i case dotati delle dimensioni in assoluto più compatte e quindi anche di una ridottissima compatibilità lato hardware, per cui i pezzi che si possono montare all'interno devono essere selezionati accuratamente e seppure negli ultimi anni, grazie all'intervento di svariati youtuber, alcuni dei quali seguo io di frequente che mi piacciono veramente molto, questi case siano diventati abbastanza in auge e abbastanza conosciuti, in realtà non hanno ancora molto mercato perché sono abbastanza costosi sia come case che come componenti che possono essere montati all'interno, però devo ammettere che esteticamente fanno la loro porca figura, come si dice. Che poi in realtà, voler essere sinceri, ci sarebbe anche una terza categoria della quale parlare, vale a dire quella dei case di tipo HTPC, acronimo che sta ad indicare gli Home Theater Personal Computer, una serie di cabinet che presenta svariate caratteristiche comune sia ai case di tipo desktop che di tipo tower, di cui abbiamo parlato tra l'altro poc'anzi, ma che fa categoria a sé stante in quanto il suo uso è strettamente legato alla creazione di media center, ossia di dispositivi computer, in questo caso che sono abibiti esclusivamente alla riproduzione di file multimediali, quindi come musica, foto e video. Difatti poi, in alcuni casi, capita che questi case di tipo HTPC vengano forniti direttamente dal produttore di un telecomando che possa permettere all'utente finale di sfogliare i propri contenuti memorizzati su hard disk, USB, CD, DVD e via discorrendo, come se fosse una televisione, le moderne smart tv che si possono comandare con il telecomando come se fosse un mouse, possono essere utilizzati anche attraverso questi media center, che potremmo definire null'altro che una libreria multimediale. Tuttavia questa è veramente una categoria di prodotti di nicchia, perché al giorno d'oggi una persona che abbia il desiderio di crearsi un media center personale, invece di optare per l'assemblaggio, la creazione e la manutenzione conseguente di un computer dotato di case HTPC, magari con anche il relativo telecomando, piuttosto andrebbe, o comunque verrebbe portato, anche soltanto andando a fare una breve ricerca su internet, su una soluzione di tipo NAS, che è un articolo, un prodotto totalmente differente, ma che permette di fare esattamente le stesse cose riducendo drasticamente le dimensioni e anche il costo, oltre ad avere una facilità d'uso veramente incredibile. Ma non è questo il luogo nel momento di cui parlarne, perché il NAS sarà argomento principe di uno dei prossimi video che verranno nei tempi futuri. Ma cambiando argomento dal punto di vista costruttivo, i case sono solitamente formati da uno scheletro intero, una struttura di acciaio e svariati inserti in plastica, tuttavia ne possiamo trovare tranquillamente anche di alluminio, rame, legno e persino vetro, tuttavia questa è una differenza per lo più di questione estetica, di fattore estetico, perché al lato funzionale l'utilizzo di un materiale piuttosto che un altro non comporta grandi differenze. E con ciò, attenzione, non sto dicendo che un case da 30 euro vale come uno da 300 euro, perché tolti tutti i fronzoli agli abbenimenti del caso, come led, raffreddamento a liquido, placature in oro che non servono assolutamente a nulla per il funzionamento, ma sono appunto un vezzo estetico, la qualità costruttiva di un case è un argomento veramente importante. Mi viene in mente roba di qualche anno fa che un ragazzo che conosco mi ha portato il suo computer per un problema al disco, mi pare, ma questo nulla fa, e aveva un case di tipo tower, e prima di aprirlo mi sono accorto che una delle tue paratie laterali era leggermente stondata, cosa non normale se i case dovrebbero essere a forma di parallelepipido, no? Per cui l'ho aperto, ho controllato all'interno, e c'erano delle componenti di tutto rispetto, proprio a livello qualitativo e a livello di potenza. Il problema qual era? Che sì, le componenti interne erano di alta qualità, ma il case era di una marca cinese che non ricordo e che forse non sapevo neanche pronunciare allora quando ce l'avevo davanti, che era fatto di un materiale che potremmo equiparare tranquillamente all'alluminio delle lattine come spessore, e quindi a lungo andare il peso delle componenti aveva piegato l'apparatia posteriore. Quindi questo per farvi capire che andare a lesinare di 10-15 euro sul case non ha un senso per andare piuttosto a rischiare di acquistare un prodotto molto scarso a livello di qualità. Mi viene in mente perché sono una marca paradossalmente molto ben recensita online ma che in realtà fa dei prodotti veramente pessimi e se andate a fare una breve ricerca online ve ne renderete conto tranquillamente. Chiunque abbia qualche competenza in merito li sconsiglia totalmente e sto parlando dei prodotti della Mars Gaming, un'azienda che produce anche alimentatori mi sembra e che fa veramente dei case. Ne ho trovati anche a 20 euro. Ora capite anche voi che a confronto tra ovviamente un Corsair, magari uno di quelli che parlavo prima dei Lee and Lee, che hanno 3.000 cose inutili come le paratie in vetro, la predisposizione a 850 ventole, magari raffreddamento a liquido, non servono. Però anche prendere soltanto, non so, per farvi un esempio ma perché l'ho avuto a mano più volte, uno Sharkoon VS4 che è un case normalissimo, proprio senza fronzoli, senza tutti questi abbellimenti estetici, in realtà a livello qualitativo è molto, molto migliore di questi Mars Gaming o comunque di case da 30 euro e ne costa appena 50, quindi non sto parlando che dovete fare un salto di 300 euro. Prendete quello che teoricamente dovrebbe essere il miglior rapporto qualità-prezzo. Se poi è anche sborone, tanto meglio. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero, con interesse. Ma ditemi, che cosa ne pensate se uno dei prossimi video lo facciamo su una guida all'acquisto dei migliori case in circolazione, magari divisi anche per fascia prezzo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc e questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.